Il Potenza supera i 50 punti in classifica, conquista una vittoria all'ultimo respiro contro un Correaceo Manfredonia e ribalta in poco meno di 40 minuti una gara che i padroni di casa avevano decisamente fatto pendere dalla propria parte. De Giosa ha squalificato e la porta infortunato sono i due big high box per i downi di Baratto che affida l'attacco alla Forza ed a Mendola, chiavi del centrocampo a Joff con Capitano Romito a svariare in zona mediana. Per Ragno invece il classico 4-3-3 con la corazzata potenza ad affidarsi alle giocate di Pepe, Franza e Siclari. Parte però meglio il Manfredonia che sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova subito il gol del vantaggio dopo soli sette minuti di gioco. A Mendola di testa anticipa tutti i mischi e beffa l'intervento in tuffo di Brezza. Poi gara accorta dei padroni di casa e poche se non pochissime le opportunità da rete create dai potentini. Piove sul bagnato nella prima frazione di gioco poi per gli ospiti quando al trentasettesimo Nicola Ragno è costretto a sostituire prima Franza per dissenso e poi dopo pochi minuti anche Panico per Vaccaro e entrambi per infortunio. Nella ripresa ancora scosso il Potenza e ne approfitta il Manfredonia. Dopo cinque minuti infatti arriva il raddoppio e Vatiero da destra a servire a Mendola che calcia nel cuore dell'area di rigore e complice un intervento poco deciso di Brezza arriva la Forza a mettere il pallone in rete. Al diciottesimo però arriva anche il pasticcio della difesa di casa. Pepe rimette palla al centro, deviazione svirgolata da Mazzei e Siclari in sforbiciata. Sigla il suo decimo gol personale batte grasso riaprendo il match. Potenza arrembante e dopo soli tre giri di lancetti arriva il pari. Punizione da posizione defilata di Esposito, sponda aerea di Bertolo e l'altro centrale di difesa, cioè di Somma, in sacca non lasciando scampo a grasso. Manfredonia in balia degli ospiti e gara in parità ma le emozioni non sono finite e gli stessi ospiti dopo aver rifiatato per qualche minuto provano nuovamente a trovare la via del successo e dallo scadere arriva l'incredibile sorpasso. Palla spiovente dalla metà campo, di senso, trova la sponda giusta per Siclari che di testa nel cuore dell'area di rigore coglie la traversa. La palla torna in campo e Guadalupi è entrato da pochi minuti, calcio potente, non lasciando scampo a grasso. In pieno recupero poi Joff termina, anzi tempo la sua gara per un duro scontro di gioco, anche se non c'è più tempo per altre emozioni. Dal sogno dello sgambetto alla capolista per il Manfredonia alla rimonta in poco più di 40 minuti per un Potenza, sempre più solitario e già capace di conquistare 16 vittorie su 21 gare disputate. Cavese sempre a meno 4 e testa al big match di domenica prossima contro l'Altamura.